Aria, aria pulita Finalmente siamo in ferie, andiamo in vacanza Ma quali ferie? Ma quali vacanze? Quale ministro ha detto che bisogna lavorare tutto agosto? Quindi sbrigati, di quello che devi dire, veloce E allora ci vediamo il 31 agosto alle 7 su 7 gold aria pulita Sì va bene va bene, ma adesso lavoro via Buone vacanze Aria, aria pulita